Casozza è una casa pensata per bambini che incontrano la malattia e per le loro famiglie, è una casa che festeggia quest'anno i suoi dieci anni. Ciao, sono Fatima e noi siamo i ragazzini di Casozza. Ecco, l'obiettivo è di aiutarli nella quotidianità, quindi aiutare loro, i loro fratellini, le loro sorelline, i loro genitori e vivere un momento di serenità, di tranquillità. E a Casaozza possono andarci tutti e tutte. Ma a Casaozza ci possono venire anche quelli che sono in carrozzella o quelli malati. Abbiamo anche un laboratorio di basket perché lo sport è inclusivo, lo sport aiuta, ci sono anche alcuni ragazzi in carrozzina che fanno questo laboratorio e oggi abbiamo questa bella novità dell'Auxilium che è con noi. È stato per noi un grande regalo, anche per i ragazzi, la possibilità di giocare con dei grandi giocatori, atleti. Oggi sono arrivati dei giocatori di Serie A. E abbiamo giocato con loro tutti insieme. E ci siamo divertiti un sacco. La esperienza è bella, ovvero, quando siamo arrivati qui, siamo arrivati a vedere la casa. E la gente che diceva a noi che è una casa, 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 che è una casa. qui è molto bello. E per essere qui con i bambini, è sempre bello vedere i bambini e viveremo e fare cose così. Quindi ho avuto un buon momento.